salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi località stupenda ci troviamo a Dasho in provincia di Como ci troviamo in un punto strategico con un panorama pazzesco perché siamo sul sasso di Dasho questo terrazzo appunto sopra al piccolo burgo di Dasho dove si ha un panorama incredibile da una parte cioè di là adesso non si vede ma dietro di là c'è il lago di Como poi c'è tutta questa parte che va a unirsi con questo che è il lago di Mezzate quindi ragazzi un panorama incredibile perché poi guardate le montagne intorno pazzesco c'è un po' d'aria ci sono delle ondate di vento davvero fastidiosi in certi momenti non c'è proprio in altri momenti arrivano delle ventate davvero fastidiose e penso che lo sentiate anche dal microfono dell'action camera e in tutto questo ben di dio voleremo con lui il DJI Air 2S quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo e decolliamo in questo posto meraviglioso un posto magico anche perché c'è un silenzio incredibile quindi ragazzi mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo da DJI Air 2S qui ad Ascio in provincia di Como Ascio in provincia di Como Grazie a tutti 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 Grazie a tutti